Come i vecchi tempi, fratelli, stipati insieme senza privacy, con il desiderio di strapparci la testa a vicenda. Topi in trappola. Madre ci sta chiamando dalla sua parte per essere testimoni di questo momento, per partecipare al potere e tu vuoi fermarla. Abbiamo più di una possibilità qui, lo sai. Dobbiamo pensare alle cose. Come una famiglia. Era quello che temevo. Le onde di energia interferiscono con i sistemi di navigazione e le capsule si stanno schiaffando nuove. Troverò a poter dire il suo punto dell'autorità aeroportuale. Dovrai camminare un po'. Scusa, ma è il massimo che posso fare. Questo è il tuo momento, fratello. È qui che dobbiamo stare insieme. Se ti metti contro di me... Beh... È una brutta faccenda uccidere un fratello. Ma tu lo sai questo, vero? Sei capace di rifarelo. Non sarà una... Asseggiata. Oh, si è presa una bella lignata. Non deve aver fatto piuttosto male, fratello. Oh, ma tu lasco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo sul ponte sopra di voi, c'è qualcuno lì? Rispondete! Grazie a tutti. Questa sta fanculizzando tutto. Perfetto. Questa va? Guardalo, guardalo! Ehi! Guardalo, guardalo che furba! Ciao! Guardalo! Guardalo! Dove vado qua? Tu vada qua? Sì Oh, perda! Che cazzo è questo, sta cosa? Dove? Un pochino di più potenza Intanto i difetti grafici, questi sfarbillamenti continuano per detto Hai l'aria di aver frugato in un formicaio I'm back I'm done Hey! Oh, troppi! Cazzo! Troppi! Non si capisce un cazzo! Non si capisce un cazzo! E poi schiazza! Ma porca di quella puttana! Madonna! Hanno il corpo completamente, tutto il sistema segmentario ricoperto di piomba E continuano ad avere la forza di rompere i coglioni! Oh, e basta! E che cazzo! Vaffanculo! Dopo un pochino sì, ma dopo un po' basta! Siete bravi! Siete forti! Siete coraggiosi! L'abbiamo decretato! Basta!